Buonasera a tutti amici! È venerdì, sono le 17, quindi è arrivato il momento della rubrica La sicilianità! Oggi vi vorrei parlare di un detto molto, ma molto conosciuto, diciamo non solo da noi siciliani, ma anche da tutto il mondo, io suppongo, che è il seguente Ti oscuri menzanotti? Non può fare! Andiamo a vedere insieme che cosa significa. Per capirlo meglio, vi dico la traduzione letterale, che più buio di mezzanotte non può fare Se anche in questo modo non vi aiuta e non vi dice niente, adesso ci sono io qui per spiegarvelo Si tratta dunque di una bella esortazione a non perdere mai la speranza quindi anche quando si pensa che le cose possano soltanto peggiorare in realtà esiste un punto in cui ci può essere una svolta positiva Questo proverbio dunque ci ricorda che anche i momenti peggiori hanno una fine e che prima o poi arriva il momento della risalita Per la cronaca sto aspettando anch'io questo momento per togliermi anche qualche sassolino dalla scarpa Ci vediamo alle 19 qui in live su TikTok Io vi auguro nel frattempo un bellissimo weekend e ricordatevi che chi oscuro i menzanotti non può fare A presto! Lì va forte E' già innamorata E' innamorata E tu come lo sai? Lo so Gli occhi caro mio Non mettono mai Gli occhi caro mio Pronto? No, no, no Vodafone No, no, no Guardi, mi dispiace Non posso parlarle No, 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 no E purtroppo Guardi, devo finire un lavoro importante Ho appena ammazzato un addetto di Alison Energia Devo metterlo nei vasetti finché è caldo Altrimenti vi va male Non ho usato la pectina Sa come siamo noi caselinga? Ecco, se non riusciamo ad ammazzare il tempo Dobbiamo pure insomma ammazzare io Comunque, guardi La sua proposta mi interessa da morire Mi vengo a trovare di persona Come dice? Mi danno 30 anni? Eh sì, lo so E' la pelle grassa che stende le rughe Grazie Riederci Che carina Allora, in Sicilia Per ogni parente che vai a trovare Ti offre il caffè Vai dal primo parente Arrivi Eh, gioia Sei arrivata E quando parti? Ma che so Sono arrivata ora Non lo so Guardi, veramente Sono arrivata ora Lo vuoi un caffè? No, grazie zia Veramente Non lo bevo Te la faccia Vai dal secondo parente Arrivi Ehi, gioia Sei arrivata E quando parti? Non lo so Zia Non lo so Lo vuoi un caffè? No, grazie zia Veramente L'ho bevuto prima Dallo zio Pino Ah Dallo zio Pino Sì E da me no Te lo faccio Vai dal terzo parente Arrivi Ehi, gioia Sei arrivata E quando parti? Subito Diamo anche il tempo Di un caffè Visto che abbiamo La serie fresca Per te Perché l'ho vista 70 volte Andiamo a mettere La classifica Il diavolo Ha un bel personaggio Però Mi metterei Al sesto posto Che dici? Dio l'ottavo Ottavo Vabbè No, mettiamo l'ottavo Sibyl Tu mi stava sulle palle E ora mi metterei Nona No, però è stata brava Vabbè Che c'entra? Tu devi capire Il personaggio Nona Demo Non ti mette Prima 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 Nudo Perché sei indigioso Ecco perché Meritato Enzo Enzo A te non piaceva In realtà all'inizio Io ti darei un giro A te Quinto Quinto Ma quale quinto? Non ti piaceva Sette 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 Valeri Significante Ho avuto Diciamo Però Non la voglio mettere Prima di Enzo Non la voglio mettere Decima Perché se appare Mette Dove lo che Prendiamo Io Mettere Se appare Dove lo Mettiamo La decima Dai Elena Elena A che posizione La mettiamo Quarta Sì sì Quarta Sono d'accordo Per una volta Nella vita La nonna Di Bonnie Eh La nonna Di Bonnie Sì No No Quinto Quinto Non mi sposto Se lo merita Che dici Capiste niente Tutta questa serie Elia Elia Sì È un gran personaggio Sesto Io lo metterei Al terzo posto Scusa Chi Chi Mettere Fiasse Non D'accordo Bonnie E Caroline Perché tu Vabbè Mettiamo Al sesso Mary Louise Oh signore Odiosa No Andiamo No Ma non può andare Nel nello Ma si può fare switch Switch Sì Mi so di sì Ma dai Non può andare Se può Katrin Fierce Vedete un terzo posto Nel suo personaggio Lo switchiamo O mai Vabbiamo a switchare Prima Che sti Sapila qui Così è Che vuoi fare Terzo Terzo Vediamo il secondo posto Chi se la giudica No No Mettere Dai No Mettere 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 Dovano Devo dire No Per lui Non se lo merita Switch Switch No Dai No Liv Che duravo Due orna No Cambiare Jeremy Jeremy Gilbert E No Secondo posto No Ragazzi L'avrei messo al settimo Al posto di Enzo Non si può switchare più Quindi ha vinto Jeremy No Che il secondo posto In questa lesifica Era di Enzo A me Ma se non ti piaceva Lui Con boni Ha preso Tanti punti Ma Cioè Non sono soddisfatta Di questa lesifica Ancora Ma se vuoi dire Sono soddisfatta Sono al primo posto Naturalmente Ancora io Io ho detto Sono soddisfatta Al primo posto Tristanzi Ma